Con l'avvio delle immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Perugia per l'anno accademico 2023-2024, prosegue anche l'impegno di Regione Umbria in accordo con l'Ateneo Perugino nel favorire il più ampio accesso ai propri corsi di studio. Anche per quest'anno accademico si rinnova pertanto l'ampia gamma di agevolazioni relative al contributo per l'accesso agli studi universitari. In aggiunta alla fascia che beneficia dell'esenzione completa già prevista, l'attuale contributo consentirà a studentesse e studenti con reddito ISEE Università fino a 30.000 euro di recuperare le somme versate secondo le modalità specificate nell'apposito bando di prossima pubblicazione sul portale Adisu. Ulteriori agevolazioni particolari sono previste per rifugiati, studenti meritevoli, studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo, studentesse e studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare o che si iscrivano a tempo pieno in condizioni di necessità, anche grazie al rinnovato accordo fra l'Università degli Studi e la Regione dell'Umbria. L'Università degli Studi di Perugia si pregia di essere tra i pochi Atenei in Italia ad offrire ai suoi iscritti questo tipo di agevolazione grazie alla collaborazione con la Regione a beneficio del diritto allo studio.